senza bavaglio informazione libera sempre siamo con Irene Lamanna la dottoressa Irene Lamanna presidente dell'associazione Taranto Turismo ATT e allora dottoressa Lamanna intanto la stagione estiva è finita siamo in autunno almeno come date sebbene settembre sembra clemente e ci sta dando quelle soddisfazioni quel sole quel calore che agosto ci ha negato con le sue piogge che ha rovinato ovviamente anche un po' la vita degli stabilimenti balneari e allora facciamo un bilancio di questa stagione come è andata come sono stati i flussi un paragone magari anche rispetto agli scorsi anni beh indubbiamente questa è stata un'estate molto strana però c'è una nota positiva in quanto il turismo è sicuramente in crescita nuovamente sul nostro territorio diciamo che il blocco che c'era stato dal 2012 al 2015 più o meno 2016 finalmente sembra essere ormai sciolto e quindi sembra che il turismo stia riprendendo la sua normale corsa soprattutto sul nostro territorio Taranto nella nostra città che come ho sempre detto in questi vent'anni è una città altamente turistica città turistica non significa avere solo del turismo business che vediamo unicamente nel periodo estivo come in alcune città come Rimini o come il Basso Salento ma per fortuna Taranto gode di un ventaglio di settori turistici che ci permette di vivere di turismo 365 giorni all'anno gli elementi come dire attrattori almeno per quello che mi consta io non sono un tecnico però il Martà il Castello Aragonese sono i due come dire due elementi fondamentali come dire il Colosseo a Roma la Torre Eiffel a Parigi ma devo dire che il nostro mare si è fatto e si fa apprezzare ecco diciamo che Taranto con tutti i suoi problemi non possiamo negarlo legati all'Ilva legati all'immagine che si è fatta anche negativa di Taranto ha retto e questo ci fa piacere perché se c'è una crescita turistica in un momento difficile e le prospettive sono estremamente positive però non basta bisogna infrastrutturare il territorio bisogna fare una programmazione dal punto di vista politico e soprattutto comunale insomma i turisti come vengono se poi non li sai attrarre se ne vanno ma intanto Luigi ti ringrazio per esserti ricordato di una nostra eccellenza che è il Museo Nazionale della Magna Grecia che ahimè grazie a Dio dottoressa Lamanna sia lei sia io non siamo ignoranti come Di Maio grazie a Dio era proprio la nota che volevo sottolineare quindi sì indubbiamente queste due grandi eccellenze il Martà e il Castello Aragonese anzi questo ciò che ha detto le nefandezze che ha pronunciato Di Maio sono quasi state di ritorno una pubblicità assolutamente sì perché abbiamo avuto modo ancora una volta di sottolineare quelle che sono le eccellenze culturali del nostro territorio ovviamente senza tralasciare il borgo antico che purtroppo ahimè non si trova proprio nel suo massimo splendore insomma tutt'altro tutt'altro sarebbe necessario lavorarci sopra ma al di là delle infrastrutture prima delle infrastrutture prima dei programmi per il territorio sarebbe o basterebbe un po' più di attenzione da parte dell'amministrazione e della politica nella pulizia della città nota dolentissima questa stagione soprattutto per i turisti stranieri mi permetta l'espressione volgare tantissime zone della città e delle periferie ma anche del centro cittadino i litorali per esempio ridotti a porcini sì è stata ribadisco una nota dolente soprattutto per il turismo straniero per turismo straniero intendo tedeschi russi inglesi che hanno visitato il nostro territorio e tutti quanti devo dire molto affascinati dalle bellezze insomma paesaggistiche io dico naturali e storiche e archeologiche paesaggistiche in generale quindi sia storiche sia naturali ma assolutamente inorriditi dallo sporco proprio così l'hanno definito una famiglia di tedeschi dallo sporco che vi è intorno e qui emercono responsabilità enormi dell'AMIU e dell'amministrazione comunale perché l'AMIU i vertici dell'AMIU la dirigenza dell'AMIU hanno a che fare con l'amministrazione i vertici, il presidente, il CDA non vengono nominati dallo spirito santo ma dal sindaco sì ritengo che la responsabilità sia in primis dell'amministrazione comunale in merito all'AMIU nonostante io insomma questa estate abbia caricato sull'AMIU una forte responsabilità mi sento in dovere di spezzare comunque o lanciare una freccia in loro favore perché dalla notte dei tempi cioè da quando l'associazione Danato Turismo collabora con l'AMIU per donare un territorio decente alla città, ai cittadini ma soprattutto ai turisti devo dire che io ho sempre incontrato la buona volontà da parte dei funzionali ecco il problema però secondo me è anche una questione proprio di organizzazione più ampia è l'organizzazione che magari crea delle falle la cattiva organizzazione ma io penso che non sia neanche questione di cattiva organizzazione io penso ben altro lo abbiamo visto anni fa con una precedente gestione dell'AMIU di fronte al pugno duro della dirigenza c'è stata una rivolta da parte della classe operaia e purtroppo questo ha procurato dei danni alla classe dirigente e ritengo che il problema sia proprio la classe operaia ecco abbiamo visto quindi Taranto che dà risposte quindi Taranto ha un appeal ha una forza ha una vista attrattiva questa c'è però il passo successivo ce lo stiamo dicendo da parecchio è quello di incanalare Taranto nei circuiti turistici cioè al di là del turista che viene a Taranto però sarebbe bello che quei pacchetti turistici che riguardano la Puglia riguardassero anche Taranto allora Luigi Taranto è e ha un turismo passami il termine forse qualcuno lo riterrà un po' esagerato non ha un turismo di massa e non può avere un turismo di massa Taranto ha un turismo d'elite pertanto non possiamo paragonare il nostro territorio e vendere pacchetti turistici ai tour operator ma la particolarità deve essere nello scegliere quelle particolari compagnie che fanno viaggiare turisti categorie di turisti particolari che possono arricchire e visitare il nostro territorio noi non siamo per fortuna né Rimini né il Salento né Gallipoli ne abbiamo visti i risultati di quello che è il turismo di massa di quello che fa il boom Taranto è una città è una città molto particolare anche nel un turismo di scelta diciamo un turismo di scelta un turismo di nicchia è quello il turismo che può essere sviluppato a Taranto il turismo di nicchia che porta sicuramente una buona economia al territorio per concludere il tentativo far sì che il turismo a Taranto non sia solo il turismo estivo parte di giugno, luglio e agosto ma destagionalizzare e magari sfruttare anche i vari momenti dell'anno e quindi il turismo per esempio religioso in occasione dei riti della settimana santa o gli eventi natalizi cioè voglio dire ci sono determinati momenti dell'anno in cui Taranto grazie a Dio è protagonista e allora questo tentativo di destagionalizzare perché legare Taranto solo ed unicamente al mare diventa riduttivo in termini turistici se noi ospitiamo il convegno della Magna Grecia Di Maio non lo sa questo, io lo diciamo chiaramente questo considerando la portata, le dimensioni potrebbe sprovincializzare Taranto Sì, come sottolineavo prima Taranto per fortuna ha un ventaglio di incoming che va a ricoprire tutti i settori turistici dal business allo sportivo, agli esur religioso, al sociale e quindi grazie a Dio possiamo a discapito del Basso Salento riconoscerci questo privilegio quindi Taranto per fortuna è una città che lavora turisticamente 365 giorni all'anno in merito ai particolari eventi come quelli che nominavi e cioè il Natale, le processioni, il turismo religioso bene lì è necessaria quella programmazione di cui mi parlavi prima ovvero arriva il Natale, Taranto ha alcune o diverse particolarità religiose ci sarebbe bene l'organizzazione da parte di una direzione turistica che ahimè a Taranto non abbiamo del programma natalizio come del programma pasquale io oltre alla città proprio di Taranto, del capoluogo penso per esempio ai presepi penso che a Faggiano cioè a Faggiano c'è il presepe vivente più importante del Mezzogiorno d'Italia e questo dovrebbe essere un elemento fondamentale a State ci sono dei presepi, dei manufatti che sono, e la invito a vederli, unici in Italia ecco, anche in quest'ottica di turismo d'élite di turismo ad personam cioè che l'amante del presepe vivente si reca a Taranto l'amante dei presepi di Cartapesta si lega si presenta a Taranto creare degli scambi con altre realtà italiane che hanno queste specificità ecco, anche in questa ottica seppur specifica, questa ottica può aiutare assolutamente, può essere un'occasione per esempio per centralizzare su Taranto l'arrivo del turismo facendolo rimanere e organizzando, quindi inserendo quella programmazione che dovrebbe fare una direzione turistica di capoluogo dovrebbe condizionare abbiamo proprio la direzione turistica quindi manca proprio a monte l'organizzazione la direzione turistica del capoluogo dovrebbe organizzare il turismo del capoluogo e dell'intera provincia pertanto si potrebbe faccio per esempio faccio un esempio si potrebbe organizzare un evento natalizio che parte dalla città vecchia con la visita al museo diocesano diciamogli pure questo a Di Maio dovrebbe esserselo perso è rimasto a San Gennaro a Napoli o una particolarità sperando che gli faccia la grazia o che ci faccia la grazia di togliercelo politicamente da mezzo ma questo è un altro discorso o per esempio la particolarità su Taranto è l'immacolata che inizia appunto l'8 dicembre e di lì si potrebbe creare un iter che va a visitare non solo la particolarità della processione dell'immacolata che c'è a Taranto durante il periodo natalizio ma collegandosi alle varie virtù dei presepi della provincia quindi come esistono i mercatini natalizi a Vienna piuttosto che o anche in Alta Italia insomma tutte queste o le luminarie a Napoli insomma sulla costiera bene un voto a questa stagione turistica estiva io sono un'insegnante buona a questa stagione estiva darei un 8 meno insomma un 8 meno e una nota di merito all'organizzazione dell'Isola Festival ci fa piacere sono cose che è stata molto gradita dai turisti però poi un'ultima chiusa quando arriva il 15 di agosto e poi la motonave Adria o Clodio nessuna delle due funzionava gli utenti anche i turisti sono rimasti a terra beh allora ecco torniamo al discorso dell'organizzazione dell'ente civico in questo caso dell'AMAT signori cari l'ente civico il comune ha le sue responsabilità cioè non possiamo parlare di isole Cheradi e poi non abbiamo una nave efficiente per portarli per portare le persone a San Pietro cosa? che già l'anno scorso c'era verificata non è stata una disgrazia non è che è caduto un fulmine su entrambe le navi allora no una Vis Major no uno si ferma Vis Major cui resisti non potest ci fermiamo qui no non è una causa di forza maggiore è che c'erano due catorci e i catorci prima o poi si fermano la sfiga ha voluto che si fermassero proprio il giorno di Ferragosto vabbè questa è una casualità un po' particolare il diavolo ci mette la cuda diciamo o non ci mette il coperchio o ci mette tutte e due se non mette nel coperchio ci mette la cuda però sarebbe bello organizzarsi tra l'amministrazione comunale e l'ente che gestisce le isole che era cercando di andare a sopperire lì dove casualmente ogni anno il 15 agosto c'è qualcosa che non funziona con le tantissime organizzazioni private di motovedette di navi che ci sono che possono portare turisti concludiamo questa bella chiacchierata con una battuta io dico meno male che la marina c'è a Taranto ci ha preservato da tanti danni che fa il comune quando io andavo all'isola di San Pietro dall'età di un anno c'era la famosa prima il portempedocle e poi la tarantola e la gis e poi il cheradi queste schifezze non accadevano mai i passeggeri i bagnanti andavano sempre a destinazione da quando si è messi in mezzo Zalamat che già è penosa per quanto riguarda il trasporto su gomma quando si è data all'acqua al mare ha fatto acqua da tutte le parti eh sì meno male che la marina c'è e diciamo è teniamocela cara a cara è il nostro bigliettino da visita e viva la marina e viva la marina militare italiana senza bavaglio informazione libera sempre